buongiorno a tutti allora in questo frammento di video proveremo a dare un'occhiata diciamo così a valle dell'introduzione al corso a qualche caratteristica interessante dell'ecosistema del linguaggio python che abbiamo scelto durante il corso di cui diciamo così inizieremo da vedere i primi passaggi durante l'anno l'ho chiamato questa questa parte è una visione generale dell'ecosistema python che ci farà capire al di là di quello che impareremo diciamo così specificatamente sul linguaggio che cosa ci sta intorno quali possono essere i passi successivi il linguaggio python è stato inventato da questo signore Guido Van Rossum negli anni 90 di fatto come come spesso succede perché le soluzioni che esistevano al momento non mi soddisfacevano non mi piacevano e quindi diciamo così ha provato a inventare un linguaggio che fosse semplice pulito regolare facile da imparare facile da insegnare facile da estendere e che permettesse già fin dalla prima installazione di avere una buona insieme di funzionalità questo approccio che qua viene chiamato approccio delle batterie incluse vedremo che python ha già al proprio interno molte delle capacità molte delle funzioni che altri linguaggi invece possono avere solamente aggiungendo delle libri aggiuntive mentre invece dentro python tendenzialmente le cose fondamentali sono già comprese e soprattutto anche dal punto di vista della installazione non è complicato come potrebbero essere altri linguaggi quindi è importante è stato importante per Van Rossum lo è diciamo così per python essere semplice da installare semplice da utilizzare quindi non creare complicazioni nell'utilizzo o nell'apprendimento e come conseguenza di questo diciamo così il linguaggio si è diffuso molto oltre al fatto che ovviamente è gratuito e questo sicuramente aiuta e si è diffuso molto e quindi anche la documentazione poi in seguito risulta essere molto abbondante quindi per qualunque esigenze di documentazione informazione siamo sicuri di trovare moltissime risorse dai libri ai siti eccetera eccetera stiamo comunque parlando di qualche cosa anni 90 quindi sono un linguaggio che ha una storia che è nata comunque 30 anni fa e comunque cresce ancora oggi e ancora oggi tende a essere uno dei linguaggi più utilizzati ci sono mi mostro solo così rapidamente due statistiche aggiornate questa giornata d'agosto 2022 che fa vedere che non si legge molto però python è il primo linguaggio in termini di diffusione secondo questa statistica dopodiché seguono il C e C++ che ovviamente sono linguaggi che sono molto più utilizzati a livello di programmazione di sistema poi C Sharp, Java, SQL, JavaScript e altri linguaggi diciamo così più di nicchia che seguono con delle percentuali che sono meno della metà diciamo così di rispetto ai linguaggi principali questa è una delle tante statistiche qui ci sono alcuni link per i più curiosi o gli insaziabili che fanno vedere diciamo così a altre statistiche basate che ovviamente non coincidono come numeri perché sono basate su su assunzioni diverse, su diciamo così valutazioni diverse alcune più sulla diffusione del linguaggio altre sulla disponibilità di progetti open source eccetera eccetera ma alla fine vediamo che python continua ad essere al primo posto e il C al secondo posto anche in questo secondo indice Tiobe seguito da Java le varianti del C quindi JavaScript stranamente compare ancora un residuo diciamo così del Visual Basic che tutto sommato è molto meno usato e altri linguaggi a scendere così come anche quest'altro grafico di nuovo purtroppo chi fa questi grafici non pensa mai alla dimensione dell'etichetta al primo posto c'è JavaScript in questo caso perché è più molto pensato ai progetti tipo web e dopodiché al secondo e terzo posto se la giocano vedete che si scambiano un pochino il linguaggio python e il linguaggio Java ecco tutto questo ovviamente non perché noi scegliamo il linguaggio sulla base di quello che è più diffuso più statisticamente più popolare ma chiaramente perché ci aiuta diciamo così a imparare un linguaggio che poi potrà essere utilizzato avrà un seguito non è un linguaggio di nicchia o una tecnologia di nicchia che poi nessuno usa e quindi lo impariamo e lo buttiamo via abbiamo già visto nella documentazione che vi abbiamo messo a disposizione sulle istruzioni di installazione come il linguaggio python si possa scaricare l'interprete del linguaggio python si possa scaricare direttamente da questo sito python.org dove c'è sicuramente la pagina di scaricamento ma anche tutta la documentazione principale del linguaggio stesso delle funzioni di libreria eccetera eccetera noi dovremmo imparare durante il corso ma anche durante la nostra vita effettivamente a leggere, a trovare le informazioni nella documentazione ufficiale è chiaro che nelle slide, nei libri ci sono delle versioni semplificate delle spiegazioni, delle introduzioni ma poi la vera verità di come funziona una certa cosa la trovi nella documentazione e quindi giustamente dobbiamo imparare a andare a leggere alla fonte quando parlavo di batterie incluse nel linguaggio python si riferiva al fatto che oltre al linguaggio di programmazione costruito da un insieme di istruzioni parole chiave che pareremo a conoscere ci sono già una serie di funzioni pronte una serie di dati, tipi di dato che il linguaggio già conosce quindi il linguaggio python già è in grado di lavorare con stringhe lavorare con numeri interi, numeri complessi espressioni regolari, cioè di fatto stringhe di ricerca e poi dei tipi di dati tipo le liste, le matrici, gli array eccetera tabelle di hash, dizionari che sono già, diciamo così, calati dentro il linguaggio con tutta una serie anche di librerie di supporto librerie di funzioni matematiche per leggere e scrivere file di testo per fare un po' di statistiche per gestire i numeri casuali eccetera eccetera queste funzionalità sono, diciamo così nel momento in cui scaricate il file dal sito di python sono già automaticamente comprese quindi noi ci accorgeremo che ci sarà quasi sempre sufficiente utilizzare la cosiddetta libreria standard del linguaggio ossia l'insieme delle funzioni e dei moduli che abbiamo scaricato con l'interprete del linguaggio stesso che sono già comprese, batterie comprese all'interno dell'interprete questo è un colpo d'occhio che chiaramente non ci deve spaventare ma ci dà un'idea di quali sono questi sono i singoli moduli ciascun modulo alla fine contiene varie funzioni e tutti questi 200 e più moduli sono già compresi nella libreria standard di python e quindi già al loro interno possiamo trovare migliaia di funzioni diverse di funzionalità diverse ovviamente non le dobbiamo conoscere tutte ma dobbiamo sapere che c'è un luogo in cui si possono andare a cercare in cui si può capire se lì dentro c'è una funzionalità che ci serve e questo è il lavoro chiaramente che faremo anche durante l'anno ma non ci si ferma qua perché oltre ad avere già un linguaggio con una ricca serie di funzionalità di base abbiamo una ricca serie anche qua di strumenti per poter lavorare con il linguaggio stesso io quando scrivo un programma non lo scrivo su un pezzo di carta lo scrivo dentro un pc utilizzando un programma che mi aiuti a scriverlo mi aiuti a eseguirlo mi aiuti a verificarlo mi aiuti a correggere gli errori eccetera eccetera ecco quindi ci sono dei programmi di contorno dei cosiddetti ambienti di sviluppo come sono citati qua che mi permettono di scrivere questi programmi in linguaggio Python poi usando il linguaggio farli funzionare, eseguire eccetera eccetera e anche qua c'è un'ampia scelta di ambienti di sviluppo noi nel nostro corso nel nostro piccolo abbiamo scelto principalmente lo strumento PyCharm perché ovviamente arriva anche anch'esso in versione gratuita ma ci sono altri strumenti molto utilizzati come Visual Studio Code c'è un interprete già compreso dentro il linguaggio idolo, è un pochino bruttino ma tutto insomma funziona e quindi ciascuna di queste icone è un esempio di un possibile linguaggio di ambienti di programmazione come dicevamo l'ambiente PyCharm è un programma di questo genere nel quale possiamo scrivere dei programmi c'è una finestra qua a destra in cui posso scrivere dei programmi sulla sinistra posso gestire una serie di file quindi un programma può essere composto da più file quindi ho un intero progetto poi chiaramente impareremo a usare varie funzionalità e poi ho la possibilità con questo tastino qua di RAM di far partire il programma in questo caso è un programma molto semplice che prende due cateti e calcola l'ipotenium con la formula del termine Pitagora e stampa il risultato qua sotto quindi questo è un possibile ambiente di sviluppo e l'ambiente di sviluppo con cui lavoreremo all'interno di questo corso ma ci esistono anche ambienti di sviluppo online quindi sono dei siti web in cui potete semplicemente collegare ad esempio noi useremo qualche volta questo sito che si chiama replete.com che contiene al suo interno proprio un ambiente di programmazione quindi io posso qua creare un nuovo file o perdono ho sbagliato un nuovo file crea un nuovo file Python e questo mi crea un ambiente nel quale posso creare e scrivere dei miei programmi in Python senza necessariamente installare nulla sul mio computer quindi se vi trovate sul computer di un amico o in viaggio sul treno o con un computer che non è il vostro non c'è tutto installato eccetera non importa voi potete comunque diciamo così all'interno di questo ambiente scusate che sia stato sbagliato all'interno di questo ambiente scrivere un programma qui ho fatto semplicemente una stampa di 3 più 3 e col tastino Run sulla destra qua compare il risultato del programma quindi questo lo potete fare semplicemente creandovi un account su questo sito replete.com e potete lavorare su questi programmi che poi saranno salvati all'interno della vostra area con dei nomi di fantasia come questi nomi strani oppure il nome che gli darete voi io qua avevo ad esempio già preparato lo stesso esercizio del tema di Pitagora che abbiamo visto prima che abbiamo visto un attimo fa su PyCharm lo stesso identico programma ho fatto copia e incolla l'ho messo qua dentro replete e vedete che se faccio Run ottengo ovviamente lo stesso identico risultato quindi sono ambienti alternativi ambienti alternativi che possiamo utilizzare tutti questi ambienti implementano supportano completamente il linguaggio Python sono strumenti diversi che in momenti diversi possono essere più o meno interessanti quindi abbiamo visto l'ambiente di sviluppo tradizionale l'ambiente di sviluppo online come replete e questi due li useremo ma poi esistono altri tipi di ambienti più specializzati ad esempio Python viene usato molto come calcolo scientifico e quindi ci sono calcolo scientifico quindi elaborare grandi quantità di dati oppure calcolo statistico che poi sono la base per l'intelligenza artificiale tutto sommato queste due tecniche di base esistono degli ambienti di sviluppo simili al PyCharm ma più dedicati al calcolo scientifico ad esempio Spyder che differenza c'è? la differenza principale è che oltre ad avere lo spazio per il programma ha anche lo spazio per i grafici per i dati per le tabelle di dati e quindi ti permette di lavorare facilmente vedendo anche visualizzando i dati stessi su cui stai lavorando Spyder è un piccolo programmino gratuito che si installa sul computer Jupyter invece è un programma che si installa che invece che si si può installare sul computer oppure si può semplicemente collegarsi online così come anche esiste un prodotto della Google che si chiama Google Collab che permette di creare dei cosiddetti notebook cioè delle serie di programmi fatti a varie celle a varie formule con cui diciamo scrivere e mescolare calcoli in Python visualizzazioni e commenti e spiegazioni di ciò che viene fatto è di fatto una sorta di lo chiamano notebook perché ricordano un pochino il quaderno di laboratorio in cui si annotano i vari esperimenti e i risultati ma in più non è solamente un quaderno ma è un quaderno che si calcola non calcola i propri valori e può contenere risultati sono molto utilizzati questi strumenti soprattutto per chi fa appunto calcolo scientifico o statistico questi sono gli strumenti diciamo che avevamo visto in questa seconda corona esiste poi tutta un'amplissima serie di librerie cosiddette le librerie sono dei contenitori di funzioni che ampliano il linguaggio quindi noi avevamo batterie incluse avevamo già alcune funzionalità ad esempio per la gestione di dati statistici però magari c'erano solamente le funzioni di base e quindi ci serve avere una libreria che abbia una gestione di dati statistici più potente ad esempio ci sono delle librerie apposite per l'analisi dei dati pandas la più importante la più famosa oppure per il calcolo scientifico c'è una libreria scipy che sta per scientific python e che ovviamente estende la libreria matematica di base con delle funzioni più avanzate tutto sommato quindi nonostante ci siano già migliaia di funzionalità nella libreria di base queste possono non bastarci soprattutto se stiamo lavorando in un ambito ben specifico e quindi qua intorno ho provato a raccogliere alcune delle icone di cui sono indicati i nomi poi sulla destra delle più famose librerie che vanno a coprire vari tipi di ambiti ad esempio la parte di visualizzazione dei grafici che abbiamo visto prima negli esempietti dell'immagine precedente sono coperte da una serie di librerie tra cui le più famose sono Matplotlib Seaborn per esempio che permettono di fare appunto questi vari grafici con una semplicità anche abbastanza elevata e poi esistono diverse librerie che sono specializzate che ne so nella parte finanziaria nella parte di biologia nella parte di calcolo di fluidodinamica eccetera eccetera in ogni settore di fatto i ricercatori di quel settore col tempo hanno tendenzialmente creato delle librerie che contenessero le funzioni a loro utili e le hanno normalmente messe a disposizione la maggior parte di queste cose sono ad accesso gratuito la maggior parte di questi pacchetti si possono scaricare da questa libreria che si chiama Python Package Index PyPy dove ci sono tutti i vari moduli che compongono queste librerie oppure esistono degli ambienti di sviluppo come ad esempio il più famoso Anaconda basato su Jupiter sui notebook che ha già compreso la maggior parte o le più importanti di queste librerie che si possono sempre aggiungere in qualunque momento quindi sono famosissime le librerie matematiche come dicevo per stendere il calcolo numerico il calcolo scientifico anche il calcolo simbolico ci giocheremo un po' durante il corso per diciamo così provare a barare le risoluzioni di derivate integrali che farete ad analisi per il calcolo statistico quindi gestione di dati c'è questa libreria Pandas ecco nessuna di queste librerie fa parte del programma del corso e non avremo tempo di entrarci nel dettaglio però sono interessante conoscere cosa c'è in giro e quali tipi di informazioni vi troverete l'anno prossimo tra due anni ad avere magari dei corchi in cui dovete fare magari delle trasformate di Fourier e vedete che qua dentro c'è non sapete ancora cosa sono adesso ma vedete che qua dentro c'è già la funzione per poterle calcolare quindi se vi serviranno sapete che Python al 99% esiste in una libreria che ha dentro la funzione che vi serve così come per il calcolo simbolico a differenza tra il calcolo scientifico e quello simbolico è che quello simbolico lavora con le espressioni quindi fai passaggi alle espressioni anziché lavorare con i numeri quindi lavorare con i valori reali c'è tutta la parte sulla visualizzazione quindi in qualunque tipo di lavoro in qualunque tipo di tesina in qualunque tipo di relazione è sempre utile mostrare dei dati ecco la capacità di visualizzazione di Excel sono abbastanza povere e bruttine anche se è semplice da usare ma se dovete diciamo di fare dei grafici un pochino più sofisticati qui avete tra quattro librerie principali che ovviamente una volta imparate le funzioni da usare le potete usare chiaramente per presentare i vostri dati in tutti i campi in cui ne avrete bisogno quindi il punto di partenza il concetto di partenza che voglio trasmettervi è proprio quello che le cose che impariamo adesso nel corso del primo anno possono essere la base per un approfondimento anche personale che potete fare andandovi poi a scegliere a studiare e a mettere in pratica le cose che vi servono che servono nel vostro dominio non dovete diventare necessariamente tutti programmatori informatici ma quel minimo di base da ingegneri ingegneristicamente che vi permette poi di applicare queste tecniche che conoscete nel vostro dominio nel vostro dominio di conoscenza io qui ho semplicemente riportato un esempio per far vedere diciamo così la semplicità la potenza di calcolo di queste cose dove ho preso volevo ad esempio come esempio far vedere dei grafici sulla base dei dati ad esempio i dati covid disponibili ufficialmente usando queste librerie che dicevamo pandas e seaborn che sono librerie di grafico sto usando qua in questo momento il prodotto google collab quindi sono collegato online questo è un browser ho aperto l'applicativo google collab di google con questo posso leggere i dati e posso vedere i dati che ho appena letto quindi vedete che io sto ho un programma fatto di vari passaggi e posso decidere con questa modalità notebook di eseguire un passaggio per volta e vedere il risultato di questo passaggio modificarlo eccetera quindi una modalità molto interattiva e dopo di che io posso decidere ad esempio di mostrare questi dati come lined un grafico a linea oppure posso decidere magari di vedere solamente alcuna porzione dei dati quindi qua usando pandas estraggo alcune sotto insieme di colonne anziché tutte le colonne che vengono state sopra mi interessa solamente due allora a questo punto le posso visualizzare più in dettaglio in questo caso sono le ondate del covid che si vedono oppure posso decidere di fare un grafico di tipo diverso in cui magari l'asse x è una variabile in questo caso gli ospedalizzati l'asse y è un'altra variabile cioè i positivi e il colore degli elementi è il tempo che passa quindi si possono vedere a cambiare i colori il tempo che fluisce da sinistra verso destra dal 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 2020 no ad oggi e si vedono quelle che prima erano le ondate viste in verticale adesso diventano praticamente dei raggi così che si dipartono si allontanano e poi rientrano e poi si possono vedere i vari periodi sono 5-6 righe di programma che grazie a tutte queste librerie disponibili ci permettono ci hanno permesso di mettere insieme in 4-4-8 un'analisi una visualizzazione su cui non ho fatto nessun'analisi statistica ma solo per dare un'idea e in realtà tutto questo l'ho fatto senza installare nulla semplicemente collegandomi al Google Collab di cui vi parlavo prima ecco questo era per darvi un'idea di quello che si riesce a fare lavorando dentro quello che ho chiamato l'ecosistema Python quindi tutto l'insieme di strumenti e librerie e documentazione e informazioni che Python ci offre noi ovviamente al primo anno non riusciamo a fare tutto non possiamo specializzarci in tutto e quindi quello che riusciremo a fare al primo anno di fatto è racchiuso dentro questa linea tratteggiata a sfondo giallo noi ovviamente impareremo il linguaggio perlomeno le parti principali del linguaggio impareremo le parti principali della libreria standard impareremo a usare come ambiente di sviluppo sia PyCharm che replete.com quindi un ambiente diciamo installato e un ambiente online e basta essenzialmente le nostre care 80 ore sono finite lì però ci tenevo che sapeste che oltre a questo anzi le parti più interessanti forse vengono dopo in questo corso tendiamo a darci a cercarli diciamo così fondare delle buone basi delle buone fondamenta appunto che poi ci possano e vi possono permettere di espandere di crescere io magari ci riuscirò durante il corso a fare qualche esempio qualche fuga in avanti per farvi vedere qualche esempio di cosa potrebbe esserci dietro l'angolo ma la parte coperta dal programma di esame rimane purtroppo all'interno di questo perimetro che è quello di partenza quindi noi iniziamo di qui e poi speriamo che nei corsi successivi voi possiate espandere le vostre conoscenze poi nelle direzioni che più vi interessano che non sono chiaramente le stesse per tutti e questo diciamo così un pochino conclude quella che potrebbe essere una panoramica ovviamente dalla prossima lezione ci rimettiamo qua al centro e cominciamo a capire il linguaggio di base come funziona e quali sono le sue istruzioni e i suoi metodi di programmazione a capire Grazie a tutti.